Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 La musica è diventata! This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin, let's begin Allora adesso dai, avevamo detto C'è Alessandra Calì pronta, è un talento, ve la facciamo sentire Talento del canto in diretta su By Night Roma L'una e due minuti, ascoltatori, c'è Alessandra Calì pronta No Ah, il diaframma seduta, assolutamente Sti cazzi Allora comunque c'è Alessandra Calì che ci canta Gianna Annini, sei nell'anima, ve la facciamo sentire Radio Radio By Night Roma Radio By Night Roma Presenta il nuovo talento della notte romana La sentiamo in diretta fino alle 2 Grandissima Guasare Lit, Via Staterini È tutto dal vivo eh È lei che la canta Sentiamola va Tutto bene eh? E si fa di notte Tra poco ce lo raccontate, vi do il numero Tra poco Vado punto e a capo così Spegnerò le luci e da qui sparirai Pochi attimi Oltre questa nebbia Oltre il temporale C'è una notte lunga e limpida Finirà Ma è la tenerezza Che ci fa paura Sei nell'anima E lì ti lascio per sempre Sospeso immobile Fermo immagine Un segno che non passa mai Vado punto e a capo vedrai Quel che resta indietro non è Tutto falso e inutile Capirai Lascio andare i giorni Tra certezze e sbagli È una strada stretta Stretta Fino a te Quanta tenerezza Non fa più paura Sei nell'anima E lì ti lascio per sempre Sei in ogni parte di me Ti sento scendere Tra respiro e battito Sei nell'anima Sei nell'anima In questo spazio indifeso Inizia tutto con te Non ci serve un perché Siamo carne e fiato Trocate Na, 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 na Na, 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 na La, na, 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 na Goggia, goccia La, na, 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 na Un fianco a fianco Na 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 grazie grazie ad Alessandra Calini